Bene amici, a pesucchia, ma qua dentro c'è veramente una ficata, ma ne parliamo dopo Ecco qua i pacchi della settimana, partiamo da questo che arriva da... oh, arriva da Nuki Voi sapete che ormai ho installato la serratura smart di Nuki da... quant'è? Un paio di mesi Mi trovo benissimo, veramente non riuscirei più a tornare indietro E adesso è arrivato anche questo che è l'Opener, praticamente è un apparecchietto che si collega al citofono Sul mio classe 300 di BTC, non va benissimo E fa una cosa geniale, che mi consentirà di lasciare a casa anche la chiave del portone Perché si interfaccia l'applicazione, sa che siamo vicini al citofono e se noi citofoniamo al nostro citofono Si apre il portone, ovviamente quando noi siamo via e citofona qualcun altro non si apre il portone Quindi una cosa veramente molto molto smart, voglio capire come funziona l'app Tra l'altro c'è un progetto con Nuki, no, niente di sponsorizzato Anzi tutto nato da voi, dalla community, da noi appassionati Perché uno di voi che per mestiere cerca di bucare sistemi per un grosso marchio, non si può dire cosa Insomma fa l'hacker buono Mi ha detto Andrea proviamo a bucare la Nuki e quindi vediamo perché è un progetto che secondo me avrà tanto tanto senso Ma cosa c'è qua dentro? Oltre a un sacco di carta Oh sì, sono proprio contento che sia arrivato Questo è il PC Honda Oliver da 15 pollici Quello che è in bundle con Tim per la promozione del bonus banda larga C'è stata una polemica incredibile perché le specifiche tecniche richieste dal ministero, da Infratel per i PC erano folli Si parlava di 8 megapixel di cam, si parlava di insomma robe assurde E Honda ha prodotto apposta questo computer che ha fatto un po' discutere per le prestazioni rispetto al prezzo Lo proverò, lo proverò super partes e vi dirò assolutamente come va Questo è un pacco che secondo me arriva da voi Per Andrea c'è un bigliettino lockdown Quanto mi manca fare le colazioni con voi? Quanto mi mancano i bigliettini dietro la targhetta? Fabio, in bocca al lupo Sono oggetti creativi, inventati e stampati in 3D proprio da lui Ma adesso 2 pacchi Amazon perché ho comprato e vedrete subito, sì sono loro perché sono arrivati 4 telefoni perché ho un'esigenza Dare a un paio di persone anziane bisnonne un telefono E allora mi sono chiesto Qual è l'esigenza in questo periodo in cui andare a trovare gli anziani può essere rischioso In cui non si può muovere tra regioni, in cui è un casino Quella di avere un telefono molto facile da usare, molto semplice Tasti, tendenzialmente feature phone No smartphone perché il touch per persone anziane fanno fatica a usarle Per persone anziane non dico i settantenni Che comunque un po' di tecnologia la masticano i 65 anni Ma proprio 80, 85, anche over 90 Con però la possibilità di utilizzare Whatsapp Allora ho scandagliato un po' la rete Un po' di prodotti li avevo già provati Mi sono buttato su Amazon, ho letto un po' le recensioni Pareri, luci, discordanti, ombre E allora ho selezionato questi 4 telefoni Sì perché qua dentro in questo pacco ce n'è un altro Che proverò Cercherò di provare Immedesimandomi in una persona Che magari non è avvetta la tecnologia Che fa fatica col touch Che non riesce a capire bene come schiacciare i tasti Vedere quale è il più affidabile, quale funziona meglio Tra questo Doro 70-80 Che come vedete ha il formato clamshell Quindi ha conchiglia No ma è inutile che li abbiano perché poi arriverà un video dedicato Questo sconosciuto link Che però aveva recensioni buone Whatsapp preinstallato UMTS Vediamo come andrà Il Brondi Energy 4G L'amico smartphone l'ho scartato a priori Perché secondo me è un telefono per anziani Ma anziani davvero non, come dicevo prima, un po' smart Ma zero smart Uno smartphone poi con caratteristiche basic Vuol dire che lo smartphone va sostanzialmente male Allora questo con i tasti vedremo come va E poi un Evergreen Nokia 2720 Flip Perché magari col menu dei Nokia E gli anziani che magari hanno un feature phone Nokia Hanno più feeling Insomma arriverà un video dedicato ai telefoni per anziani Qua su Doro Che ci sia qualcosa da mangiare Questo fa parte secondo me della Sì, corruzione alimentare E IOP è un'app che sostiene la birra artigianale italiana In questo momento dove i birrifici, i bar E tutto l'indotto è in crisi Vi cito molto volentieri Anche perché, ops, è così Davvero la birra, soprattutto artigianale, è una passione E tra l'altro mi hanno mandato sei delle birre più amate Più votate dagli oltre 100.000 beer lover Grazie e bevete responsabilmente Per esempio bevete ma se bevete non andate in giro in bici Allora eccoci qua con questo scatolone Che contiene questa ruota Che può trasformare qualsiasi bicicletta in bicicletta elettrica Dentro il bluetooth, si comanda via app In una di queste razze, questi raggi C'è dentro la batteria Negli altri due c'è dentro due motori Per un totale ovviamente di 250 watt Può trasformare qualsiasi bici con ruota al diametro di 28 pollici In una e-bike Design bello E questa start-up italiana Un ragazzo, Ghigo Che le importa ufficialmente Che le garantisce Da assistenza E quindi visto che è una start-up Volevo fare una cosa carina Un progetto un po' particolare Allora qua faccio un appello ai ciclisti Ai brand di biciclette Ai costruttori A qualsiasi persona Che magari ha un telaio Che non usa più taglia M Diciamo Perché vorrei costruire una specialistica Una custom bike Una sorta di Magari una gravel Una caffè reser Insomma una bicicletta molto molto particolare Perché questo è un oggetto molto particolare Con pezzi Che però o sono di riuso O sono appunto stati donati Perché una volta messa in piedi la bicicletta Ovviamente la proverò Vi dirò come funziona questa ruota Che ripeto si può adattare A tutte le biciclette Che hanno un telaio Con una ruota al diametro di 28 E poi metterla all'asta E donare il ricavato in beneficenza Insomma l'idea è quella di creare Una bici veramente molto particolare Molto speciale Molto bella Molto accattivante Provarla e poi venderla E donare il ricavato Penso sia un progetto carino Magari utilizzerò anche delle officine sociali Per andare a montare questa bici Perché sono delle realtà qua a Milano Molto importanti Che mi piace magari raccontare Secondo me viene fuori una ficata Quindi cari rivenditori di bici Brand Insomma chiunque Se volete contattarmi Tranquillamente potete scrivermi Una mail che ci mettiamo d'accordo Sul recuperare tutti questi pezzi Che monterò insieme a un amico Impallinato di Ioutube e B Biciclette E poi vedremo cosa Verrà fuori Insomma C'è da lavorare Vado a provare I telefoni per anziani Devo immedesimarmi un po' In una nonnina Ci provo Ciao Ciao